C'è anche il presidente di Estra, Francesco Macri, tra gli indagati nell'inchiesta Coingas, ritenuto dalla procura di Arezzo il regista dell'operazione. A due settimane di distanza dallo scoppio della bufera spuntano infatti altri nomi tra gli iscritti nel registro degli indagati che così salgono a nove. L'inchiesta della procura retina sta cercando di far luce sulle consulenze considerate salate pagate dall'azienda partecipata del comune di Arezzo. A finire nei guai adesso, oltre al presidente di Estra, che sarebbe indagato per abuso d'ufficio pur non avendo al momento ricevuto alcun abiso di garanzia, anche l'avvocato fiorentino Pierettor Olivetti Razon al suo studio Coingas ha pagato consulenze esterne per 300.000 euro e l'avvocato del comune di Arezzo Stefano Pasquini. A quest'ultimo l'amministrazione del comune di Arezzo e il presidente di Coingas, Franco Scortecci, si rivolsero per una relazione che sbloccasse la situazione. Secondo la procura avrebbe dovuto esprimere un parere favorevole sulla congruità dei compensi per le consulenze salate, ossia quella al commercialista Marco Cocci e allo studio legale Olivetti Razon di Firenze per un totale di 440.000 euro. Per l'avvocato Pasquini si ipotizza il favoreggiamento come per il sindaco Alessandro Ghinelli. Stessa accusa anche per Franco Scortecci e per la ex dipendente di Coingas Mara Cacioli. Di concorso impeculato invece sono accusati l'assessore al bilancio e alle partecipate del comune di Arezzo Alberto Merelli, l'ex amministratore di Coingas Sergio Staderini ed infine Marco Cocci, il commercialista retino a cui Coingas ha pagato consulenze esterne per 140.000 euro.